Parlando di unicorni, facciamo anche le congratulazioni a quello che forse, non so se, probabilmente non è stato il primo unicorno in Italia, credo forse quello Spetti o Scala Pay o Satis Pay, basta che ci sia Pay nel nome, quindi il primo unicorno italiano senza Pay nel nome probabilmente. Rip Pay, il nuovo progetto, no, non è quel po' se sfizzero. Bending Spoons, diciamo, hanno già superato questo stato da un po', hanno superato questo stato da un po', però di recente c'è stato sia un round nuovo che altre acquisizioni, in chat Federico ci dà The Pop, The Pop se non sbaglio già non era più italiana, tra virgolette, quando Yox è stata acquisita, non era più italiana quando è diventata unicorn, vabbè, insomma, cose varie. Comunque, l'importante è che vogliamo parlare di Bending Spoons in quanto fiore all'occhiolo, all'occhiello del tech italiano e questo era il gancio che ci è venuto in mente, quindi questo gancio vi tenete. Fatto sta che, appunto, è interessante vedere come stia continuando la loro crescita. Io in realtà a questo punto quasi neanche... Ancora fanno capital raise, cioè ancora raccolgono soldi. Io a questo punto quasi neanche riconsidero più una scale up, cioè per me è diventato private equity di app. Ok. Quindi abbiamo detto che Bending Spoons ha comprato Evernote ormai tanto tempo fa, ha comprato Meetup, e ora si vocifera, si vocifera, ma non abbiamo conferme, si vocifera che stia mettendo gli occhi su Vimeo. Sì, 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 sì. Interessante, interessante. Ma... Vimeo... Qual è il piano? Qual è la vision? Sono curioso. E secondo me, cioè io li vedo molto come private equity di app. Cioè, veramente private equity, ok, quindi mi compro le cose che stanno un po'... che sono in Falling Angels, quelli che si chiamano così, però in genere i fondi di private equity comprano, gli interessa poco il prodotto finale, comprano roba sottoprezzata, la ritruccano, la risistemano e la flippano. Questo fanno i fondi di private equity. In genere poi è anche una cosa abbastanza discutibile. Private equity è vero, piglio l'azienda, malmessa, la ristrutturo pesantemente, dice, faccio i danni, e poi cerco di rivenderla messa meglio. Questo è quello che fanno i fondi di private equity. Quindi non penso che Bending Spons vada in quella direzione, dai. Però, perché no? Evernote, se non sbaglio, ha preso tutti gli americani. Ciao ragazzi, cercatevi un lavoro. Esatto, quindi tutti i casellanti americani che stavano là da tre anni tranquilli senza fare nulla, un po' l'approccio alla Elon Musk. Adesso non me ne voglia Luca Ferrari, che sicuramente si ricorderà del nostro incontro nel 2016. Non voglio paragonarlo a Elon Musk, non vi permetterei mai di offendere qualcuno in questo modo. Però in realtà ha senso, no? Ci sono tantissime app che magari non funzionano più, dove i dipendenti stanno facendo... Oddio, neanche rest and vest, perché il valore delle equity probabilmente continua a calare. Però stanno facendo rest and earn. Sì, esatto. Stanno lì, c'è un salario. Almeno lo stipendio. C'è chi dice che adesso Evernote è in profitto, c'è chi dice che forse vogliono fare sinergia con le altre acquisizioni. Io sono un po' stupito, però vabbè, non sto in quell'ambiente. Di solito non stiamo parlando di acquisizioni minori su un core business che già c'è. A meno che c'è un super piano che noi non conosciamo, stanno sviluppando l'app che Elon Musk ha sempre sognato. Quella app X che fa tutto. La super app. Però se no, se tu non sei già tipo, sono YouTube, sono gigantesco in un settore, mi acquisisco la start-up piccolina che fa servizi utili. Qui stanno prendendo robe ex grosse, tra loro un po' sconnesse, boh, fare un grande merge con tutto il software legacy, con sviluppatori che sono tutti spariti. Secondo me è il contrario. La cosa è, appunto, noi abbiamo esperienza nell'ottimizzare la parte IT delle app e abbiamo persone che lo hanno fatto e che lo fanno. Cioè, abbiamo esperienza sui canali di marketing che possiamo centralizzare, ma soprattutto loro adesso hanno raggiunto una dimensione dove non ha più senso lavorare sull'app, sull'idea di app che lanciano loro, ma hanno tanto capitale da utilizzare e quindi dicono qual è la cosa migliore? Hanno tanto capitale da utilizzare ma preso a capital raise? No, non solo, molto è debito. Fossero profitable. La maggior parte è debito. Sono anche in profitto, se non sbaglio. Cioè, anche in questo articolo c'era, se non sbaglio, riferimento al margine lordo che hanno avuto quest'anno. Si è terminato il 2023 con 200 milioni di margine operativo lordo. Quindi, diciamo, i soldi ce li hanno. Hanno trovato, secondo me, un business interessante perché magari il private equity non si va a prendere Evernote per ristrutturarlo, perché non sa dove mettere le mani e loro probabilmente hanno visto, ok, qua c'è un business con channel rate bassissimo, però con costi troppo alti e che non cresce. Secondo me non puntano neanche tanto a farla crescere Evernote. Secondo me puntano a ristrutturiamo i costi, manteniamo le persone che tanto da Evernote non se ne vanno e se facciamo un buon lavoro questo diventa un… Eh beh, hai fatto il trading, hai flippato, hai detto ok, facciamo il 2x, poi dopo che fai il trading su un'altra app, cioè… Eh, però il discorso è che un conto è che fai 2x su un'app che costruisci tu e quindi il 2x vai da 1000 a 2000. Però se vai da… adesso sicuramente hanno pagato meno Evernote, però fate questo esempio. Se vai da 100 milioni a 200, già è un altro sforzo, capito? Anzi, per lo sforzo simile hai un risultato che è mille volte più grande. Come diceva… come diceva Stefan Schwarzman, molto spesso… Sì, se non c'è un nome osceno… Schwarzman, l'uomo nero. Schwarzman, sì. Schwarzman, vuol dire nero. E poi se non sbaglio è stato pure CEO di Blackrock, quindi… di Blackstone. Quindi insomma c'ha tutte le caratteristiche tipiche del villain, di Disney. Molto spesso raggiungere un obiettivo che è mille volte più grande rispetto a quello che ti sei posto, comporta uno sforzo simile. E quindi loro adesso stanno cercando di raggiungere un punto in cui possono fare sforzi… Boh, non lo so, non lo so. Cioè è comunque costoso mentalmente, energeticamente venderti in aziende non piccolissime, con dei dipendenti. Cioè la leadership sta gestendo queste cose qua invece di fare un big plan a long term su qualcosa di più core business. Forse ce l'hanno, forse ce l'hanno, non lo so. Infatti spero, domani escono. Finalmente abbiamo preso l'ultimo tassello del nostra app che consente di creare stampa 3D di esseri umani vivi. Però quanto è probabile che ti esca fuori una cosa di questo tipo che funziona? Zero. Capito? Quindi forse a quel punto dici, vabbè, io mi accontento di ottimizzare al massimo le app che compro. E poi magari tra queste app che compro ne esce pure quella che diventa flagship, però non lo so. Minchia, ok. Speriamo, speriamo. Sì, è un modello interessante. La scorsa settimana parlavamo degli aggregatori di e-commerce che sono falliti o che stavano fallendo. Secondo me qui l'approccio invece è quello giusto. Cioè io in quell'industria ho visto il problema contrario. Era un momento in cui tutti quanti, c'era tantissimo hype intorno al mondo dell'e-commerce, tutti quanti volevano comprare i brand che andavano virali e che funzionavano, e lì paghi un premium gigantesco, mentre invece loro fanno il contrario. Si vanno a prendere Fallen Angels con costi molto più controllabili perché e-commerce devi gestirti il magazzino, cioè 3.000 cazzi se sei dipendente su Amazon, 3.000 problemi di operazioni, ti compri un'app, una volta che la sistemi la lasci lì e può continuare a farti fare soldi. Sì, ma i colloqui all'americana, l'ambiente californiano. Vabbè, quello c'era un bello ufficio. Per fare il mercatino delle app. Ma vediamo, io mi aspetto che esca fra poco una roba, un annuncio. Con questi tasselli abbiamo fatto il Frankenstein, abbiamo una vision, qualcosa, un ecosistema. Secondo me è difficile fare un Frankenstein trap così diversi tra loro. Infatti è impossibile, esatto. Però ecco, tipo Meetup, Meetup c'è un potenziale enorme in realtà come app, non ha mai preso, però potrebbe diventare un'app molto più utilizzata. Quindi il business è che hanno preso Evernote, hanno messo il prezzo, hanno messo a pagamento e via. Ok. Beh, Evernote è sempre stato a pagamento. E la gente pagava pure tanto per Evernote. Ok, non l'ho mai usato. Sì, no, hanno cambiato il prezzo, hanno ristrutturato l'azienda, hanno aggiunto qualche feature, hanno sistemato l'app mobile e adesso la lasciano lì a fare soldi finché non si ripagano l'investimento iniziale e poi dopo sarà, finché non ripagano il prestito e poi dopo sarà approfitto per loro. Va bene. Va bene. Diventa molto commerciale. Cioè, capisco il tuo approccio. Dice, questa non è Google, questa è Blackstone. Sì, 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 ma neanche. Vabbè, c'è i fondi di Lombardo Die sulle private equity. Ok. Sì, ci può stare. Comunque, ecco, questo è lo stato di Benning Spoons in Italia. Vediamo che succederà con Vimeo. Certo, Vimeo pure sarà interessante da vedere come si evolverà, dovessero comprarla. Cioè, cosa andare a sistemare lì. Se le tieni tutte quante separate, ragioni su su ogni singola app, come migliorare, come ottimizzarla di per sé, come riuscire a ottimizzare lato business, neanche lato sviluppo, è un conto. Se comincio a comprare app un po' social, un po' connesse da qualche filo logico, mi aspetto anche di vedere sinergie, mi aspetto di vedere che cavolo ne so, che su Meetup ci saranno dei video embeddati di, non lo so, poi prenderci note sopra. Non so, mi aspetto un po' di sinergie, se no veramente... Cioè, faccio 6 colloqui in inglese. Ah, perché dici il processo di assunzione. Ah, ok. Vediamo, vediamo. Diciamo che... Potrebbe esserci nel back-end, perché tu dici appunto, ho un team di marketing che sa fare questo, quindi centralizzo tutto. Ho un team di sviluppatori che sa fare questo, quindi appena finisce il lavoro là, poi gli faccio fare refactoring sull'altra app, che è un progetto simile. Sì, ma sempre in un'azienda di consulenza per te stessa. Sì, se fa soldi, fa soldi. È un'azienda di autoconsulenza. Oggi il cliente è Evernote, ti vesti diverso, ma nell'altro ufficio c'hai il sviluppatore di Evernote, poi torni indietro e domani il cliente è quest'altro. Vabbè, vediamo. Mi auguro, perché un po' ci ho creduto in Benin Spoonce, ci credo ancora, perché alla fine economicamente sta andando bene. Eh, esatto. Però mi sembra un po' un'occasione persa fino adesso, non lo so, vediamo. Vediamo, vediamo. So che dovrebbe uscire un video di, dicevano in chat, è già uscito un video di Marcella Scani in cui intervista il CEO, dovrebbe uscirne un altro, quindi magari riusciremo a capire meglio la sua vision, sarebbe interessante. Grazie a tutti.